Statale 225 a senso unico alternato da oltre un mese per la frana San Pietro di Sturla di Carasco i sindaci chiedono soluzioni di viabilità alternative e nuove infrastrutture è la settimana decisiva per i trasporti sanitario interni giovedì la commissione regionale salute dibatterà sul bando per l'affidamento a terzi questa sera speciale direttamente sul tema battezzare i bambini da piccoli per garantire loro il dono dello spirito lo ha ricordato il Papa nella festa del battesimo del Signore all'Angelus l'invito all'umiltà per ogni discepolo di Cristo pomeriggio di festa rapallo per la benedizione della sede del sestiere capelletta i massari autotassandosi hanno deciso di acquistare dalla parrocchia i locali di via Mameli una giornata di Luna Park per i disabili rinnovata anche quest'anno a Chiavari l'iniziativa speciale che regala emozioni ai ragazzi e adulti ultima settimana per votare i presepi partecipanti al concorso in Fontana Buona la natività rappresentata nel solco della tradizione con alcuni elementi di attualità sabato la premiazione buongiorno a tutti ben ritrovati con la nostra informazione anche oggi apriamo occupandoci di viabilità i rocciatori di Anasi infatti sono al lavoro in questi giorni sulla frana che lo scorso 6 dicembre è caduta sulla statale 225 a Carasco nella frazione di San Pietro di Sturla il traffico procede a senso unico alternato regolato da semaforo e rende necessaria una riflessione sulle possibili alternative per alleggerire la mole di traffico che deve attraversare il comune nei collegamenti tra la costa e le valli Sturla e l'entroterra ma ci spiega tutto Giacomo Rizzi proseguono gli interventi di Anas alla frana sulla statale 225 a Carasco nella frazione di San Pietro di Sturla che da più di un mese rende necessaria una viabilità a senso unico alternato con semaforo al momento i rocciatori sono al lavoro per fissare le reti metalliche che erano state posate giovedì scorso con l'elicottero e stabilizzare il fronte roccioso una volta messa in sicurezza la parete saranno rimossi i detriti che ancora ingombrano metà della careggiata per consentire la riappertura completa della strada disagia la viabilità che riportano alla discussione sulla necessità di nuove infrastrutture per collegare costa e dentro terra il comune di Carasco in particolare è uno snoro centrale nei collegamenti tra la riviera e le valli Fontana Buona e Sturla che si trovano in situazioni di sofferenza ogni qualvolta si verifichino eventi che intralciano la viabilità Massimo Casaretto, sindaco di Carasco sottolinea la necessità per il comune di un accesso diretto a via Vittorio Veneto della frazione di Riva Rola per consentire anche il transito di mezzi pubblici servizio che garantirebbe ai residenti pianziani che non guidano mezzi la possibilità di spostarsi in autonomia collegamento che sarebbe previsto nel progetto del prolungamento di via Lecasman opera che permetterebbe inoltre gli alleggeri del traffico tra Chiavari e Carasco altra proposta tornata ad attualità e richiesta ancora con più energia dopo la frana di San Pietro di Sturla è quella del cosiddetto tunnel corto che collegherebbe Chiavari all'imbocco della Valle Sturla il sindaco di Mezzanego, Danilo Repetto sottolinea l'importanza di rivitalizzare una situazione infrastrutturale rimasta ferma ad una cinquantina d'anni fa individuando le priorità nel prolungamento di via Lecasman e nel tunnel corto opere che consentirebbero oltre che un'alternativa in situazioni di emergenza una maggiore facilità nel raggiungere la costa con agio per i residenti e potenzialmente un aiuto alle attività commerciali dell'entroterra la viabilità alternativa esistente al momento tramite le strade collinari non appare adeguata a regge del traffico costante tra coste e valli sia per le dimensioni eccessive dei veicoli commerciali che vi transitano quotidianamente rispetto a questi percorsi sia per le condizioni di questi collegamenti viari che si trovano già in condizioni di disagio strutturale e ancora più indietro dal punto di vista della manutenzione è la settimana decisiva sul tema dell'affidamento a terzi dei trasporti sanitari interni su cui Regione Soccorritori stanno discutendo da tempo giovedì 16 infatti la Commissione Salute dibatterà sul bando di gara l'importanza del volontariato sul territorio è riconosciuta da tutti ma soprattutto i piccoli presidi rischiano grossi disagi ci siamo chiesti quanto è importante la presenza dei militi nell'entroterra siamo andati a Borzonasca Che cosa vuol dire essere direttore dei servizi di un piccolo presidio qui a Borzonasca? Allora vuol dire avere tanti problemi perché la vastità del territorio è ampia i pazienti superiori anziani sono molti di più e la gente ormai essendo che noi siamo 36 anni che siamo qua su questo territorio si appoggiano a noi su tante cose poi noi partiamo sento anche volontari che non abbiamo orari non abbiamo niente e andiamo specialmente io e qualche due altri mio collega l'ho abituato che i pazienti si aspettano Ecco facciamo un esempio concreto come funziona questo? Per esempio io vado spesso a prendere uno su alla forcella addirittura parto lo porto giù e sto giù tutta la giornata arrivo delle volte alla sera alle 6 e ce ne tanti altri per esempio io lunedì vado a Genova 8 e mezza e probabilmente arriverò alle 3 del pomeriggio Come di altro li aiutate gli anziani che magari hanno anche problemi di spostamento Sì problemi di spostamento noi ci chiamano se abbiamo una sedia se li andiamo ad aiutare c'è signori che hanno bisogno delle gocce ci andiamo a darci le gocce chi ha bisogno di punture vediamo perché non c'è nessuno sul territorio che fa punture cerchiamo di aiutarli in tutte le possibilità che possiamo fare Siete un punto di riferimento lo siete diventati nel tempo Ormai sì perché ormai mi chiamano ma io c'ho questo problema va bene ci penso io e allora vado faccio Un presidio come questo voi cosa ci guadagnate alla fine? Proprio niente perché siamo tutti volontari solamente adesso è da un anno che c'ho uno stipendiato dopo aver lottato tanti anni l'unica cosa che c'è c'è uno stipendiato basta le spese che avranno giù sono quelle lì perché qua non pagano di affitto non pagano niente e noi tutti volontari L'argomento sarà dibattuto questa sera nella trasmissione direttamente su con inizio alle 21.10 al canale 15 di Telepace ospiti in studio Mirko Bettoli della Croce Verde Chiavarese Fabio Mustorci della Croce Bianca Rapallese e Francesco Boccardo della Croce Rossa di Cicagna I lavoratori della IML di Casarza Ligure domani scenderanno in piazza a Genova in concomitanza con il vertice fra sindacati e regione il presidio inizierà alle 14 in piazza De Ferrari le organizzazioni sindacali incontreranno l'assessore regionale benveduti e chiedono con forza liquidità per pagare gli stipendi ai dipendenti e per acquistare il materiale relativo alle commesse che il mercato garantisce non importa quale sia la strada individuata specifica il segretario della FIM CISL del Tiguglio Omar Di Tullio l'importante è che il percorso venga monitorato con attenzione sia dalle istituzioni che dalle organizzazioni sindacali per verificare quale sarà la strada che sarà intraprese e soprattutto che sia seria il riferimento è al fatto che l'azienda di Casarza Ligure fa parte di un gruppo che ha sedi anche negli Stati Uniti e in Europa occorre che si investa in Italia spiega Di Tullio perché questa è un'azienda che sul mercato è competitiva e può risollevarsi la speranza è di predisporre un piano industriale serio con filse che faccia da garante presso qualche istituto per superare la situazione di impasse batteggiare un bambino è un atto di giustizia perché gli garantisce il dono dello Spirito Santo lo ha ricordato il Papa celebrando l'Eucarestia nella Cappella Sistina nella festa del Battesimo del Signore Francesco ha incentrato anche la riflessione all'Angelus sul tema dell'importanza del Battesimo Nella memoria liturgica del Battesimo del Signore Papa Francesco ha battezzato 32 neonati 17 bambini e 15 bambine nel meraviglioso scenario della Cappella Sistina il Papa ha pronunciato un'omelia incentrata sull'importanza del Battesimo Battesimo è un figlio è un atto di giustizia per lui e perché? perché noi nel Battesimo gli dammo un tesoro noi nel Battesimo gli dammo un pegno lo Spirito Santo è il Spirito che lo difenderà lo aiuterà durante tutta la vita per questo è così importante battessarli da bambini perché crescano con la forza dello Spirito Santo Francesco ha invitato i genitori i padrini e le madrine a curare la Catechesi ma anche l'esempio e ha invitato a non spaventarsi se i piccoli iniziano a piangere in un contesto liturgico lasciate piangere e sgridare i bambini forse è perché è troppo caldo togliere qualcosa o perché ha fame allattalo qui sì a qui sempre in pace loro hanno una dimensione corale è sufficiente che uno dia il la e incominciano tutti si farà il concerto non spaventarsi all'Angelus il Papa ha invitato a festeggiare oltre al compleanno anche la data del battesimo Francesco ha sottolineato l'atteggiamento di Cristo che chiede di essere battezzato è la via dell'umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi figli un atteggiamento ha detto indicato a tutti il buon discipolo è l'umile il mite quello che fa il bene senza farsi vedere nell'azione missionaria la comunità cristiana è chiamata ad andare incontro agli sempre proponendo e non imponendo dando testimonianza condividendo la vita concreta della gente pomeriggio di festa ieri a Rapallo per l'inaugurazione della sede del sestiere Cappelletta i Massari con una scelta coraggiosa hanno deciso di acquistare i locali di via Mameli precedentemente di proprietà della parrocchia l'inaugurazione dei locali in via Mameli a Rapallo corona un momento storico per il sestiere Cappelletta la sede già occupata da anni diventa proprietà effettiva dei Massari che hanno formulato la loro proposta d'acquisto alla parrocchia Avevamo altre richieste per l'acquisto di questa struttura ma avrebbe avuto una finalità e una destinazione commerciale ho preferito invece il sestiere perché così continua la destinazione sociale che già la parrocchia aveva iniziato Il consiglio direttivo del sestiere con l'intento di aiutare la comunità parrocchiale ha scelto di procedere nel grande passo sostenendo la spesa anche con mezzi propri Una parte di soldi l'abbiamo messo in tasca nostra e una parte c'è il mutuo e la cifra complessiva sono 210.000 euro Per i Massari è un motivo di orgoglio essere riusciti ad acquistare la sede dove negli anni hanno prestato servizio diverse generazioni di rapallesi Io vengo da una famiglia di Massari mio nonno mio papà io mia figlia adesso anche mio nipote cioè una cosa che prosegue e il sestiere cappelletta è dentro al mio cuore ci tengo soprattutto quasi più alla mia casa Oltre all'attività del sestiere i locali saranno messi a disposizione a quanti ne faranno richiesta potendo usufruire anche del vicino campetto Vengono anche i ragazzini a giocare perché è ancora l'unico campetto che c'è disponibile nella parrocchia di Sant'Anna visto che giù dalla chiesa diciamo non ha ancora potuto ultimare i lavori e poi possono fare altri tipi di svaghi che tutti i ragazzi possono usufruirne per cinque anni il contratto e per cinque anni la parrocchia può usufruire gratuitamente di questo Una mattinata speciale questa mattina a Luna Park di Chiavari a fruire delle attrazioni allestite in colmata i ragazzi dell'area disabili del villaggio del ragazzo del centro Benedetta Acquarone di Castiglione Chiavarese e quelli dell'Anfa Stigullio Est diverse le attrazioni che hanno potuto sperimentare insieme ai loro educatori Ancora una volta Luna Park ha voluto accogliere questi ragazzi per offrire loro un momento di festa e di gioia Certamente infatti noi siamo contenti di questo perché è una cosa che si faceva anni fa in piazza Milano non siamo più riusciti a rifarla per via della pavimentazione che nella parte esterata riuscivamo da quando siamo tornati su questa quest'area siamo riusciti ancora a fare questa manifestazione per questi ragazzi che è una cosa per noi gratificante io volevo ringraziare come tutti gli anni i giustrali e soprattutto noi ragazzi siamo commossi di questa cosa loro sono sempre grati e ogni anno si rinnova questa ormai che possiamo definire una tradizione che vivono benissimo come potete vedere dalle immagini e speriamo che questa cosa si protraga ancora nel tempo come tutti gli anni li portiamo qui alle giostre e gli facciamo passare una bella mattinata in compagnia con noi e noi con loro come tutti gli anni e intanto porgo l'occasione per ringraziare il panificio Angelo e Davide di Lavagna che per questa mattinata ci ha offerto la focaccia per tutti i ragazzi una realtà apprezzata quella delle giostre oggi un modo anche per riconoscere l'accoglienza che la città offre a questa realtà si guarda siamo particolarmente contenti di essere qui con con questi meravigliosi ragazzi e tra l'altro una valenza anche sociale che noi teniamo molto le giostre sono qui sono per il secondo la seconda edizione nuovamente sull'area di colmata quella più bella noi siamo particolarmente contenti di averli ospitati qui l'associazione culturale Lago Rà di Lavagna ha bandito la sesta edizione del premio Francesco Dall'Orso in ricordo dello scultore lavagnese un riconoscimento nato con lo scopo di far conoscere i giovani del comprensorio massimo trentenni che ogni anno si distinguono nelle varie discipline artistiche scientifiche sportive e culturali è possibile presentare eventuali candidature fino alla fine del mese di febbraio il regolamento si trova sul sito internet dell'associazione sono stati celebrati questa mattina i funerali di Natalina Garibaldi vedova Scartozzoni più conosciuta come Luisa i funerali sono stati celebrati nella chiesa di Santa Margherita a Caperana era la mamma del collega giornalista Giancarlo Scartozzoni lascia il figlio la nuora e i parenti tutti il rosario è stato recitato ieri sera nell'abitazione di via Parma a Chiavari al collega Giancarlo e i suoi familiari la vicinanza da parte di tutto lo staff di Telepace ora la rassegna stampa poi le ultime notizie e gli altri servizi il Corriere della Sera titola ora la riforma dell'IRPEF queste sono le parole del Premier Conte intervistato dal quotidiano di Via Solferino rivedremo le pensioni gravi nei adempienzi di autostrade all'Italia da ristrutturare sempre Conte dice il voto in Emilia Romagna non è decisivo ma la riverifica della maggioranza andrà a fine mese proprio dopo le elezioni e parla invece la leader di Fratelli d'Italia Meloni il centrodestra si è unito mai il proporzionale pronte a fare le barricate Di Maio leader politico l'ultimo vero è stato Craxi una battuta al vetriolo del senatore De Sì caos nel Movimento 5 Stelle e poi ancora Ratzinger difende il celibato dei preti appunto dopo segnali di riforma arrivano alcune righe scritte per un libro che sarà pubblicato il 15 di gennaio e poi ancora Data Room la rivoluzione digitale vale 25 miliardi l'anno ma appunto vedete la foto in centro pagina dedicata al giornalista Gianpaolo Panza che ci ha lasciato ieri addio il giornalista era tornato a scrivere per il Corriere Panza maestro e cronista nato nel 35 e morto appunto nel 2020 la sua sinistra è quella anatema andiamo a vedere l'articolo di Pierluigi Battista tolse il velo sul sangue dei vinti arrivò l'anatema della sua sinistra il libro sulle vendette partigiani proteste e accuse anche dall'amico Giorgio Bocca le polemiche fu trattato come un disertore e lui reagì con altri volumi sullo stesso tema un articolo anche di Walter Veltroni un giornalista onesto anche nelle scelte più radicali andiamo invece alla prima pagina del secolo XIX che titola l'Europa Vara il piano verde da mille miliardi fondi per l'Ilva il governo punta sulla riconversione industriale finanziamenti a quattro regioni Liguria esclusa più tolleranza sugli aiuti di Stato e le imprese ecosostenibili ma c'è un retroscena che arriva da Bruxelles da Bruxelles i soldi per la società mista con Anserol Mittal Iran la polizia spara sugli studenti in piazza dilaga la contestazione al regime di Kamenei no di Renzi a Di Maio Libe missione europea in salita a Mosca si firma la tregua e poi ancora qui l'addio il giornale di Sapanza aveva 84 anni scrittore controcorrente e ancora lavoro fisco bonus facciate oggi grazie l'inserto del secolo sulla manovra fiscale siamo allo sport una goleada per risalire Samp Brescia 5-1 doppietta di Quagliarella che sale così a 158 reti in Serie A e poi il Genoa che invece fa una pessima prestazione il Genoa degli ex batte anzi il Verona degli ex batte 2-1 il Genoa servono rinforzi Grifo rimontato dopo il gol di Sanabria e poi ancora nella prima pagina i lupi in Liguria sono 200 o arrivano le risorse per controllarli e poi lavori e chiusure sulla 12 galleria in regola entro maggio ma si parla di viabilità anche sulla prima pagina del Levante via Aurelia e Sant'Anna ma non solo frane e cantieri in tutta la riviera disagi e proteste nelle valli Aveto Fontana e Sturla Fontana Buona e Sturla lei via Gazzo chiusa addirittura dal novembre 2014 qui non si interviene seriamente da decenni questo è l'allarme di Confindustria e poi anche a San Colombano a Certeno lì tante situazioni da rivedere da Certeno e a Vignale ecco le situazioni a rischio Zavateri ci sono lavori da fare Mortola Voragini sotto la strada e ancora dal secolo XIX edizione del Levante ladro ferito e ancora caccia al complice l'episodio in via Mori a Sestri Levante i carabinieri indagano per chiarire se i due siano entrati in azione anche il 5 gennaio con tre colpi tra Sestri Levante e Lavagna sopralluoghi anche sulle alture di Chiaveri dove sono stati trovati i giacigli dei malviventi La cronaca a un tetto è andato a fuoco questa notte all'Umarzo l'allarma è scattato attorno all'1.30 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Genova Est che hanno lavorato fino alle 6 di questa mattina non si registrano feriti sono in corso le indagini per capire le origini del rogo altri aggiornamenti dalla redazione dove oggi per noi c'è Andrea Capitani Grazie Emanuela buongiorno a tutti ancora una chiusura notturna parziale per una casella autostradale della A12 Genova Seste Levante sempre per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore questa volta toccherà al casello di Seste Levante che dalle 22 di stanotte alle 6 di domani mattina sarà chiuso in uscita per chi proviene da Livorno e in entrata verso Livorno Autostrade consiglia di utilizzare a questo proposito la stazione autostradale di Lavagna resteranno chiusi inoltre gli accessi alle aree di servizio Riviera Sud e Riviera Nord nella direzione opposta verso Genova quest'ultima la Riviera Nord sarà accessibile solo dai veicoli in entrata alla stazione di Seste Levante e diretti verso Genova potranno uscire a Seste Levante solo i veicoli in arrivo da Genova è tutto per i presepi partecipanti al concorso in Fontana Buona questa è la settimana decisiva sabato prossimo infatti si svolgerà la cerimonia di premiazione al palazzetto Poliuso di Cicagna alle 15 ultimi giorni dunque per votare le rappresentazioni della natività italiani pubblicati sul secolo XIX dovranno essere consegnati entro giovedì vi mostriamo adesso alcune delle natività in concorso qui nel presepi di San Giacomo di Gattona innanzitutto cosa possiamo trovare cosa vediamo ma quest'anno abbiamo cercato di riprodurre un paesaggio ligure di qualche anno fa con gli antichi casoni in pietra a vista e sullo sfondo c'è invece un paesaggio montuoso con il fiume con alcuni paesini che si vedono in lontananza con le stelle la luna un presepe diciamo proprio tipico della tradizione nostra ligure qui nel presepe di pianezza cosa c'è cosa possiamo vedere a me piace fare un presepe tradizionale quindi ci sono la natività è molto centrata ricca di legni muschio le cose che si possono trovare comunque nel bosco diciamo qui nel presepe nella chiesa di Codiglia Ligure di San Nicolò cosa troviamo? abbiamo eseguito un presepe molto semplice abbiamo ricostruito un oasi con una tenda dove c'è la natività e con delle statuine che ci hanno donato la comunità di Correglia Terminelli e nello speciale presepe in onda domani sera alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15 ci dedicheremo una più ampia rassegna ai presepi della Fontana Buona la Lavagnese vince in casa contro il Casale grazie al gol di Cantatore nel finale e compie un passo importante verso la salvezza partita combattuta per i bianconeri che nel primo tempo contengono gli attacchi degli ospiti momento decisivo all'85esimo con Cantatore appunto che segna di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo terza vittoria per i ragazzi di Gianni Nucera dopo quelle con il Borgo Sesia e il Givi Borgo il prossimo impegno domenica 19 contro l'Unione Sanremo alle 14.30 terminiamo così questa edizione di Tiguglio oggi la prossima avrà inizio come sempre a partire dalle 19.15 trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News grazie per averci seguito buon pomeriggio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti